La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia, mi ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari e univoci posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo, alla fine del dibattito parlamentare dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. La scelta di rinviare fino ad oggi la comunicazione di una decisione evidentemente assunta da tempo mi duole affermarlo con tanta nettezza, è un gesto di grave imprudenza istituzionale, innanzitutto e riguardo solo i confronti del Parlamento. E' in ogni caso suscettibile di precipitare il Paese in una vorticosa spirale di incertezza politica e di instabilità finanziaria. Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito.